Con la festa di Vicinato in programma venerdì 4 luglio in 12 quartieri di Milano parte ufficialmente il piano estivo per gli anziani e i disabili messo a punto dall'assessorato alle politiche sociali e presentato stamane a Palazzo Marino. Previsti interventi assistenziali per chi ha più di 75 anni, vive da solo e non è autosufficiente. Tra gli interventi sono comprese anche le misure anticaldo che scatteranno appena le temperature in salita cominceranno come ogni anno a creare disagi tra la popolazione anziana. Il Comune ha reperito più di un centinaio di spazi ricreativi sparsi in tutta la città tra cui centri aggregativi, quelli socio-culturali e i luoghi per la socialità messi a disposizione da privati. Lo scorso anno sono stati oltre 24.000 gli interventi effettuati da giugno a settembre, 13.400 consegne di pasti a domicilio diretti a 1.834 persone. Abbiamo circa 24.000 utenti che sono quelli che seguiamo in relazione a interventi che riteniamo importanti per non lasciarle sole. 6.700 sono gli anziani particolarmente a rischio in relazione anche a quella che è stata la valutazione fornita da ASL e che compongono quell'anagrafe di soggetti maggiormente fragili che secondo noi vanno seguiti con particolare attenzione. Su questo fronte non ci sono stati tagli e l'assessore Maiorino ha garantito che gli sforzi per garantire assistenza ad anziani e disabili continueranno. Soprattutto l'assistenza a domicilio è quella che ottiene il massimo consenso. La socialità è la miglior arma contro la solitudine. Verranno potenziati i servizi diretti a 24.000 anziani. Confermiamo la spesa totale, diciamo confermiamo rispetto all'anno scorso quelle che sono le risorse totalmente messe in campo sia dal punto di vista economico che dal punto di vista del personale. Siamo convinti che pur in una fase di crisi come questa vadano sempre difese con le unghie coidenti queste prestazioni per noi cruciali. Grazie a tutti. Grazie a tutti.